Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale e in un nuovo video. In queste settimane di quasi lockdown, di semi lockdown, mi sono concessa una lettura che volevo fare da tantissimo tempo. Vi avevo già accennato qualcosina qui sul canale, ve ne ho parlato invece più approfonditamente su Instagram. Ebbene sì, nel video di oggi vi parlo di A sangue freddo di Truman Capote. Come vi dicevo, un romanzo che volevo leggere da tanto tempo e nel momento in cui l'ho preso tra le mani sapevo di avere a che fare con un grande classico della letteratura americana e di conseguenza nutrivo nei confronti di questo romanzo altissime aspettative. Ebbene, se possibile, la lettura ha superato le aspettative, nel senso che questo romanzo mi è davvero piaciuto tantissimo, mi ha coinvolta emotivamente moltissimo, mi è entrato sotto pelle e di conseguenza non potevo non parlarvene qui sul canale in un video dedicato. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, se già non l'avete fatto, di attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che qui viene pubblicato un nuovo video. Qui sotto in descrizione trovate i link ai miei social, in particolare Instagram e Goodreads dove pubblico quotidianamente aggiornamenti di lettura. Qui sotto in descrizione trovate anche i link per acquistare direttamente su Amazon i libri di cui vi parlo nei miei video. A questo punto direi di cominciare. Sicuramente molti di voi già sapranno che Truman Capote con questo romanzo ha dato origine ad un vero e proprio genere letterario nuovo, vale a dire il romanzo verità, il non fiction novel. Questo perché in questo romanzo, in A sangue e freddo, Truman Capote ci racconta fatti che si sono effettivamente verificati. I personaggi chiamati in causa sono effettivamente esistiti. Quindi ciò che noi leggiamo in A sangue e freddo è una storia vera. Nello specifico si racconta che nel novembre del 1959 a Holocombe, un piccolo paese, una piccola comunità del Kansas vicina al confine con il Colorado, una famiglia di proprietari terrieri, la famiglia Clatter, è stata uccisa durante la notte a colpi di fucile. La mattina dopo i loro corpi sono stati ritrovati, legati e imbavagliati e ovviamente tutta la comunità è scossa, è profondamente scossa da quanto è successo. Innanzitutto perché si è trattato di un atto di violenza brutale, inaudita, e in secondo luogo perché Holocombe è una piccola comunità, un piccolo paese dove la famiglia Clatter, che era composta da padre, madre e due figli adolescenti, era conosciuta da tutti e stimata da tutti. Cominciano quindi le indagini e inizialmente non si riesce neppure ad individuare un movente. Infatti dalla casa dei Clatter sono stati sottratti pochi oggetti, neanche di grande valore, come per esempio una radio o un binocolo, e sono state sottratte poche centinaia di dollari. Quindi è difficile per gli investigatori pensare che quattro omicidi a sangue freddo, come appunto dice il titolo, siano stati compiuti per sottrarre poche centinaia di dollari. Quindi inizialmente gli investigatori brancolano nel buio, non hanno alcun sospettato, non hanno nessuna pista da seguire, le indagini però subiscono una svolta quando viene fatta una soffiata praticamente, viene resa una testimonianza inaspettata e si scopre che gli autori di questi delitti sono due uomini, due giovani vagabondi appena usciti dal carcere e condannati per furto, i quali appunto si sono introdotti nella casa della famiglia Clatter convinti di trovare grandi quantità di denaro, convinti di trovare una cassaforte con l'intenzione di svaliggiarla e quindi di fuggire con grandi quantità di denaro. I due vengono catturati, processati e condannati. Truman Capote si reca sul luogo del delitto prima, addirittura prima che venissero individuati i due colpevoli, quindi addirittura prima che venisse svelata l'identità dei due assassini e quindi a modo innanzitutto di entrare in contatto con la comunità e quindi di documentarsi a proposito della famiglia Clatter e di toccare con mano le conseguenze che questo delitto ha provocato all'interno di questa piccola comunità. Poi a modo di seguire le indagini e di seguire il processo una volta che appunto i due assassini sono stati catturati. Tra l'altro Truman Capote mantiene i contatti con entrambi gli assassini anche dopo il processo fino alla loro condanna e due infatti sono stati condannati a morte. Tra l'altro Capote si reca sul posto accompagnato dalla sua cara amica Harper Lee che ovviamente sappiamo tutti essere l'autrice del famosissimo romanzo Il buio oltre la siepe. A sangue freddo di Truman Capote racconta appunto questa storia dall'omicidio della famiglia Clatter alla condanna dei due assassini e in questo romanzo, in queste pagine, sono riportate tutte le informazioni che Truman Capote è riuscito a raccogliere sul campo in veste di giornalista. Il romanzo si focalizza su tre, quattro tematiche fondamentali. Innanzitutto si vanno ad analizzare le conseguenze che un fatto di cronaca come questo ha provocato in una piccola comunità come quella di Holocomb. Vi dicevo prima che all'inizio la polizia non riusciva a capire quale fosse il movente di questi gravissimi delitti e in un primo momento si pensa ad una vendetta personale, si pensa che il movente possa essere una vendetta personale e di conseguenza la comunità di Holocomb piomba nel terrore, piomba nell'angoscia in quanto innanzitutto non si erano mai verificati atti di tale crudeltà in questo piccolo paese, ma soprattutto si sospetta che possa essere stato proprio uno di loro a compiere questi delitti così efferati. Quindi innanzitutto vengono analizzate le conseguenze che un simile delitto ha avuto nella comunità in cui vivevano i Clatter. In secondo luogo soprattutto nell'ultima parte del romanzo chiaramente l'autore porta i lettori a riflettere sulla pena di morte. I due assassini infatti vengono giudicati colpevoli ovviamente perché lei confessi tra l'altro e poi condannati a morte e alcuni personaggi sono favorevoli a questa decisione, sono favorevoli alla pena di morte e ritengono che un delitto così grave non possa essere punito se non in questo modo. Altri personaggi invece sono contrari a questa decisione e ritengono che sia inammissibile privare qualcuno della vita, punire qualcuno con la morte e soprattutto ritengono che sia ridicolo che si punisca qualcuno per aver ucciso qualcun altro e quindi per aver privato qualcun altro della vita privandolo della vita a sua volta. Quindi sicuramente l'ultima parte del romanzo fa sì che il lettore si focalizzi e rifletta sulla tematica della pena di morte, cosa che tra l'altro mi ha fatto accapponare la pelle perché davvero se penso che in alcune realtà la pena di morte è ancora presente veramente mi sale la pelle d'oca appunto. Ma l'obiettivo principale dell'autore è sicuramente quello di farci capire e di farci toccare con mano come la criminalità non nasca mai dal nulla. Mi spiego, non si nasce criminali, non si nasce cattivi, non si nasce violenti, non si nasce malvagi. E quando un uomo quindi assume, manifesta comportamenti criminali, devianti, c'è un motivo dietro. Il crimine, la malvagità, la cattiveria affondano sempre le loro dadici nel passato di chi si macchia di un crimine. Le storie personali dei due assassini sono storie molto tristi. Innanzitutto le loro vite sono segnate dalla povertà. Entrambi in giovane età hanno sofferto la fame e hanno sempre vissuto una situazione di difficoltà economica. Difficoltà economica che tra l'altro ha impedito loro di avere un'istruzione. I due colpevoli, Dickie Cook e Perry Smith, infatti, sono due uomini di grande intelligenza che sono dotati di un'intelligenza che è fuori dal comune. Tuttavia nessuno dei due ha potuto studiare. Di Dickie Cook si dice, per esempio, che moltissimi college sarebbero stati disposti ad offrire una borsa di studio pur di averlo nelle proprie squadre sportive. Ma purtroppo la famiglia non è stata in grado di assecondarlo a causa delle ristrettezze economiche. La stessa cosa vale per Perry Smith. Perry Smith avrebbe tanto voluto studiare, avrebbe tanto voluto avere un'istruzione, ma non ne ha avuta la possibilità. tanto che ama esprimersi con un eloquio forbito utilizzando paroloni di cui magari neppure conosce il significato o di cui ignora la corretta dizione. Ma lo fa perché non vuole essere etichettato come un uomo ignorante di scarsa cultura, ma vuole essere tenuto in considerazione, vuole che la sua opinione sia tenuta in considerazione e non sopporta di essere etichettato come un poveraccio ignorante. Soprattutto però la vita dei due assassini è stata segnata in passato dalla mancanza d'amore, dalla mancanza d'affetto. Entrambe le loro storie da questo punto di vista sono molto tristi. In particolare noi conosciamo molto più da vicino la vicenda di Perry Smith, perché Capoti si è avvicinato particolarmente a Perry, si è interessato alla sua vita, alle sue esperienze passate e molto più da vicino, si è legato, ha instaurato un vero e proprio legame con Perry, tanto da andare a trovarlo in carcere anche dopo la condanna. E quindi veniamo a scoprire che il suo passato, la sua infanzia è segnata dalla violenza, è segnata dall'abuso ed è segnata soprattutto dalla mancanza d'amore da parte di entrambi i genitori, ma soprattutto da parte della madre. Capoti si sente particolarmente vicino a Perry perché lui stesso ha vissuto un'esperienza simile, ha vissuto l'abbandono da parte della madre e si sottolinea anche come fondamentale sia il ruolo del caso. Quindi il fatto di fare incontri sbagliati e di trovarsi sulla strada sbagliata o di incontrare appunto la persona sbagliata nel momento sbagliato, il che porta appunto le persone ad imboccare la via della violenza, la via della delinquenza, la via dell'odio. Sicuramente l'obiettivo di Capoti è questo, dimostrare come la criminalità, la violenza, in realtà non abbiano origine dal nulla ma affondino sempre le loro radici in un passato triste, in un passato difficile. Tanto che per quanto il crimine di cui si sono macchiati questi due uomini è ingiustificabile, non si può giustificare in alcun modo, comunque è impossibile non provare pena, non provare tenerezza nei confronti di questi due uomini, in particolare nei confronti di Perry. In altre parole, in questo romanzo si descrive il fallimento del sogno americano. Effettivamente abbiamo a che fare con due uomini che cercano in tutti i modi di riscattarsi, cercano in tutti i modi di fare fortuna e di dimostrare di essere capaci, di avere delle potenzialità, di avere delle doti, ma non ci riescono, non ci riescono e di conseguenza imboccano la via della delinquenza, la via del crimine. Nutrono un sentimento di odio, un sentimento di invidia e di rancore nei confronti di coloro che invece ce l'hanno fatta, di coloro che invece hanno avuto fortuna o ancor peggio nei confronti di coloro che sono nati nell'agio, sono nati nella ricchezza e non hanno nemmeno dovuto lottare per arrivare dove sono arrivati e a tal proposito Perry dice più di una volta nel corso del romanzo i clatter non mi avevano fatto niente, loro non mi avevano fatto niente, ma hanno pagato per tutti gli altri, hanno pagato per tutti coloro che nel corso del mio passato sono stati violenti con me, hanno abusato di me e non mi hanno considerato alla loro altezza. Dal punto di vista dell'impianto narrativo, a sangue e freddo si muove sempre su più piani paralleli, nel senso che nella prima parte si alternano pagine che descrivono le ultime giornate di vita dei clatter e pagine dove si descrivono le giornate precedenti al delitto, si descrivono i movimenti dei due assassini nelle giornate precedenti al delitto. Successivamente in una seconda parte si analizzano appunto le conseguenze che questo delitto ha sulla comunità di Holocomb. Si seguono poi le indagini, le indagini della polizia e si segue contemporaneamente, sempre contemporaneamente, la fuga dei due assassini. L'ultima parte è forse quella che procede in maniera più lineare in quanto si focalizza, una volta che i due sono stati individuati e catturati, si focalizza sul processo e sugli ultimi anni di vita di questi due uomini fino ad arrivare alla condanna morte. È chiaro che in questo romanzo si mescolano pagine che hanno un sapore cronachistico dove Truman Capote riporta le informazioni che ha raccolto sul campo e quindi si tratta di pagine che hanno appunto un sapore cronachistico e che analizzano i fatti secondo un'ottica oggettiva. Ma vi sono anche pagine dove l'autore ha ricostruito gli eventi utilizzando la propria inventiva, utilizzando la propria fantasia. Per esempio, all'inizio, quando si ricostruiscono le ultime giornate di vita dei clutter, appunto lì l'autore ha lavorato di fantasia così come ha lavorato di fantasia nel momento in cui ha ricostruito i dialoghi, i movimenti dei due assassini nei momenti prima del delitto e poi durante la loro fuga e ha cercato di ricostruire il loro rapporto. Capote mescola questi due elementi quindi da un lato una ricostruzione più fantasiosa dall'altro invece la descrizione dei fatti nudi e crudi in maniera sapiente senza soluzione di continuità. Tra l'altro è evidente come da un lato Capote abbia voluto descrivere i fatti in maniera quanto più possibile oggettiva ma in realtà la stesura di questo romanzo l'ha così coinvolto emotivamente che non sempre è riuscito a tenere sotto controllo queste emotività non sempre secondo me ha voluto tenere sotto controllo queste emotività ci sono pagine all'interno di questo romanzo che sono molto dense sono estremamente toccanti tra l'altro Capote in queste occasioni utilizza uno stile non ricercato non lo definirei retorico ricercato, elegante ma denso di similitudini denso di metafore per esempio che tradiscono tradiscono il coinvolgimento emotivo dell'autore comunque un romanzo davvero che non può non coinvolgere non può lasciare e non può lasciare indifferenti quindi spero con questo video di aver acceso il vostro interesse nei confronti di questo romanzo se non l'avete già letto ve lo consiglio tantissimo se invece avevate già sentito parlare di questo romanzo l'avete già letto lasciate un commento qui sotto e ditemi che cosa ne pensate tra l'altro ho scoperto che ci sono tre diverse trasposizioni cinematografiche di questo libro una un po' vecchiotta degli anni 60 se non sbaglio due invece più recenti della metà degli anni 2000 uno del 2005 uno del 2006 tra l'altro in una delle due trasposizioni c'è Sandra Bullock che fa Harper Lee quindi devo assolutamente recuperare questi tre film magari ve ne parlerò su Instagram e quindi ci sarà modo di confrontarsi io ho finito quindi spero che il video vi sia piaciuto e ripeto se non l'avete già letto spero che vi sia venuta voglia di leggere A sangue freddo di Truman Capote io vi saluto vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video ciao